Aumentano ma di poco i nuovi positivi al covid-19 in provincia di Bari. Secondo il report settimanale della ASL, dal 9 al 15 agosto si registra un tasso settimanale per 100.000 abitanti pari a 29 nuovi positivi rispetto ai 28 della settimana precedente. La campagna vaccinale anti-covid ha superato la soglia del 1.700.000 dosi somministrate in tutto il territorio. Dal 16 agosto i centri della ASL Bari, l'83% dei cittadini in età vaccinabile dai 12 anni in poi è stata vaccinata con almeno una dose, mentre il 70% ha coperto il ciclo di immunizzazione. Nella città di Bari le percentuali salgono sino all'84% con prima dose e al 71% a ciclo concluso. Proprio tra le fasce più giovani in particolare si registrano gli incrementi più significativi. Tra i 12 e i 19 anni la copertura vaccinale con prima dose è salita dal 58 al 63% in una settimana e dal 28 al 30% con ciclo completo. Due punti in più, dal 72 al 74% con prima dose anche per i ventenni e i trentenni, i quali hanno completato il ciclo vaccinale rispettivamente per il 48 e il 59%. In crescita progressiva le coperture per le fasce di età, i 40-49 anni vaccinati con prima dose ammontano all'81%, 71 con ciclo completo, così come l'89% dei 50-59 anni. L'80% è completamente coperto. R.I.C.